Con Black Traction RS è facile, veloce e soprattutto conveniente rinnovare, pulire, smacchiare e proteggere la gomma e il PVC dei gommoni. L'applicazione è molto agevole, ad una buona temperatura ambiente, con una spugna leggermente abrasiva. L'elevato potere sgrassante del prodotto permette di sciogliere lo sporco e di asportarlo facilmente con un panno in cotone e successivamente lascia il materiale rinnovato e protetto dall'assorbimento di ulteriori agenti macchianti. Il prodotto non è corrosivo e quando l'effetto decade è rinnovabile. L'effetto pulito probabilmente si potrebbe ottenere con altri sgrassanti, però poi il materiale rimarrebbe ancora più poroso ed esposto all'assorbimento di agenti macchianti. L'effetto pulito probabilmente si potrebbe ottenere con altri sgrassi. L'effetto pulito probabilmente si potrebbe ottenere con altri sgrassi.